Ciao, sono Gianluigi Bonanomi e ho scritto il libro Guida Calcistica di LinkedIn, ho già fatto dei video per spiegare che non parla di calcio, ma parla appunto di questo strumento straordinario che è appunto il social network professionale per eccellenza, LinkedIn appunto, e come utilizzarlo al meglio per farne appunto un uso strategico. Ecco, io oggi ti voglio parlare delle lasagne, sì lo so, magari mi stai guardando a mezzogiorno o alle 7-8 di sera ti viene fame. Voglio parlarti delle lasagne però di Colgate, in americano Colgate, come diavolo è venuto in mente a Colgate di fare delle lasagne? Nessuno lo sa, fatto sta appunto che è stato assolutamente un flop perché è stato visto come un'estensione di linea assolutamente incredibile e soprattutto fuori completamente dal target, nel senso Colgate fa i dentifrici, io non voglio mangiare le lasagne di uno che fa i dentifrici perché mi viene in mente che al posto della besciamella appunto c'è qualcos'altro. Ecco, che cosa c'entra tutto questo con LinkedIn? C'entra sul fatto che molto spesso noi tendiamo a presentarci con dei servizi, dei prodotti che non c'entrano niente con noi. Invece una delle regole fondamentali del marketing e del personal branding è quella della focalizzazione. Io parlo di questa cosa perché ho fatto un errore. Quando ho smesso di fare giornalista professionista, ho cominciato a occuparmi solo di comunicazione, in realtà solo di comunicazione c'era dentro un po' troppo. Facevo il giornalista, facevo il blogger, facevo il ghostwriter, facevo il social media manager, poi facevo il formatore, poi facevo il consulente. Capite che non esiste. Noi cerchiamo degli specialisti, non dei generalisti. Come quando vai dal medico di base, lui ti dirà sì, guarda quel dolorino al ginocchio secondo me è, però vai dall'ortopedico perché l'ortopedico vede solo ginocchi a 365 giorni all'anno. È normale che tra l'altro costi anche di più e che sia più autorevole. Troviamo la nostra nicchia. Fa niente se è piccola, l'importante è che sia una nicchia, ma soprattutto specializziamoci. Non funzionano i generalisti, soprattutto online, e quindi dobbiamo evitare di fare le lasagne se abbiamo sempre fatto i dentifrici. Grazie, alla prossima.